Un intero weekend con sporta sotto le stelle a Camucia. Torna così la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Cortona assieme alle associazioni locali, le associazioni di categoria del commercio, il patrocinio del CONI e del CIP e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. Siamo alla quarta edizione, è un evento molto importante per tutto il territorio, si parla di sport, di sociale, di aggregazione, di comunità, quindi Camucia vivrà una serata eccellente dove appunto parteciperanno le associazioni del volontariato, le associazioni sportive, i campioni, i premiati ma soprattutto la gente e quindi anche il commercio che è importantissimo per la nostra realtà. Si parte venerdì 13 alle 18 con un programma intenso che permetterà a giovanissimi, giovani e meno giovani di entrare in contatto con istruttori, operatori e provare decine di discipline sportive diverse. E questo è fondamentale perché per una sera riusciamo a vedere quello che è il potenziale della collaborazione tra associazioni sportive, amministrazione, un intero paese e associazioni di volontariato, quindi un grandissimo esempio da ripetere e portare avanti. Per noi rappresenta un'occasione per far conoscere lo sport anche paralimpico, cioè lo sport per i disabili, perché lo sport deve essere un diritto per tutti, quindi anche per le persone che hanno disabilità, deve essere integrazione, deve essere l'insieme di persone normodotate, come si dice, e anche persone con disabilità, tutti insieme a fare sport. Sarà invece Piazza Sergardi ad ospitare la cerimonia delle premiazioni. Premieremo Martina Pagoni per essersi classificata terza ai giochi matematici toscani Kangoru, Premieremo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 per essere arrivati alle finali nazionali degli scacchi scolastici, quindi 2024, e la UPD Val di Pierle per i 60 anni di attività. Sabato 14 settembre tornano infine gli intrattenimenti musicali e le proposte gastronomiche dei locali e ristoranti della zona.